Buongiorno amici, martedì 26 di aprile. Come avete passato alla liberazione? Renato è tornato in gabbia ragazzi, ve lo dico perché ieri svolassava ma oggi è tornato in gabbia. Allora, grazie ancora per tutti i voti che ci state mandando ragazzi, ma siete attivissimi, avete il vostro Whatsapp che funziona alla grande. Anche oggi parleremo per ricordare questa grande puntata di sabato dedicata a Tiberio Marani. Allora, torniamo sul palco di Emozioni e Tradizioni con Mirko Gramellini e Stefano Casamenti. Andiamo ad ascoltare un altro bellissimo brano che ci hanno regalato. Qui parliamo di questa bella polca, la gnocca, con Mirko Gramellini e Stefano Casamenti. Grazie. 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 seconda puntata dedicata a Ivano Nicolucci, è sempre aperto il televoto anche per le puntate precedenti, voi se magari vi siete persi e non avete votato il brano preferito delle puntate precedenti potete farlo e non siete in ritardo, potete farlo fino alla fine di questa prima edizione di Emozioni e Tradizioni, mi raccomando e continuate a votare. Allora adesso torniamo a parlare di questa bella tradizione di Tiberio Marani, ritornano sul palco Mirko Gramellini e Stefano Casamenti, ma prima è questo ricordo, perché questa è la novità dell'estate 2022, questo tributo alla grande storia dei Poo, a tra poco. Andrea Piva, Roberto Morganti, Andrea Giovagnoli, Paolo Rinaldini, Luca Bergamini, Goodbye, un tributo alla leggenda Poo. Il vento corre con me, cosa centro io con quella gente con lei? Che prenderà la musica? L'aria diventa elettrica, un uomo non sia domestica, le corde risuonano forte, la molla è carica. Chi fermerà la musica? Goodbye, il tour in tutte le feste e piazze dell'Italia. Grazie a tutti. 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 E questa era Mammona, è questo bel brano che ci ha regalato Mirko Gramellini. Allora, noi ci vediamo domani per ultimare gli ultimi due brani che sabato ci hanno regalato Mirko Gramellini e Stefano Casamenti. Ringrazio ancora la scuola di ballo di Stefano Bandoli, che è stata veramente molto professionale, noi ci vediamo domani come sempre da Videoproduzione Maltoni Publissole, Teleromagna, Oroge da Luca Novella, tutta la family di Emozioni e Tradizioni buona giornata e ci vediamo domani sempre con Emozioni e Tradizioni Agenzia Leardi una realtà che da 30 anni opera a fianco di musicisti, gestori e organizzatori sagre la musica è vita e noi vogliamo viverla con tutti voi Agenzia Leardi Agenzia Leardi Sì, sì, l'anno. Sì, 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 sì. 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 Sì, sì, sì.